Siamo qui alla festa dell'Europa con i ragazzi dell'Istituto Giordani che hanno realizzato un'installazione riguardo l'ambiente e i cambiamenti climatici all'interno dell'Europa Museum. Tu ti chiami? Anna Maria. Anna Maria, ciao. Che esperienza è stata per te l'Europa Museum? Per me e più in generale per noi e la mia classe è stata un'esperienza molto divertente e stimolante. Dall'inizio ci sembrava soltanto uno dei soliti progetti scolastici, invece poi abbiamo scoperto che proprio per noi è stata un'esperienza e un approfondimento su che cos'è l'Europa e abbiamo scoperto che è molto più vicino a noi di quanto ci potessimo aspettare. Grazie. Ciao, tu ti chiami? Martina. Martina, allora ma se puoi lanciare una tua proposta in difesa dell'ambiente? Sì, la nostra proposta è quella di cercare di espandere queste risorse rinnovabili che sono le risorse del futuro e noi nel nostro piccolo abbiamo cercato di dimostrare cosa è per noi questa risorsa rinnovabile con cercare di proteggere l'ambiente. Un saluto a Ciacchia Europa! Ciao!